Altro che sorpasso. Nella giornata che i tifosi del Teramo immaginavano come trionfale, Lascoli guadagna due punti sui biancorossi e scava il solco di più di una partita in classifica con i biancorossi che adesso sono a quattro lunghezze dai bianconeri. La vittoria dei marchigiani a Pisa e il pareggio interno del Teramo con la Spal in pochi li avrebbero previsti. Un Teramo lento e macchinoso è andato a cozzare contro il Mura Estense e se un calcio di rigore aveva illuso il Bonolis, un calcio di rigore a tempo scaduto ha fatto crollare il castello dei sogni. Spal coperte a corte e Teramo che per tutto il primo tempo non riesce a trovare gli spazi. Donna Rumma è il più intraprendente dei biancorossi e tiene menegatti sul chi va là. Un minuto dopo e il 23esimo Rovini prova a testare il grado di attenzione di Tonti che para in due tempi. Altri 10 minuti e Di Quinzio impegna ancora Tonti dalla distanza. Ci vorrebbe uno scossone per sbloccare la partita e prova a darlo Di Matteo al 42esimo mettendo Di Paolo Antonio nelle condizioni di battere a rete ma la conclusione acrobatica è fuori misura. Nel finale di tempo la Padula prova a destreggiarsi da solo nelle maglie della difesa Estense ma senza fortuna. La ripresa vede in avvio il primo cartellino giallo della gara che tocca a Rovini. Poco dopo uscita la Superman di Tonti che deve sbrogliare una situazione ingarbugliata in area. Al 24esimo la spalla la prima palla gol vera della partita. Tonti pasticcia un'uscita la palla finisce sui piedi di Zigoni che calcia verso la porta sguarnita. La chiusura di Perrotta è decisiva. Il Teramo capisce che non può più scherzare ma ha anche bisogno di un episodio che trova subito dopo. E' il 27esimo quando Di Quinzio atterra in area a Amadio che lo aveva saltato in dribbling. Calcio di rigore che Donnarumma con freddezza calce e trasforma. L'incubo della fuga scolana sembra svanire ma il destino riserva la più amara delle sorprese al Teramo. E' il 46esimo quando Vivarini getta nella mischia l'esordiente Milicevic al posto di Donnarumma. Per il croato del Pescara si tratta del ritorno in campo dopo tanto tempo ma la prima cosa che fa è disastrosa. Atterra in area Finotto che altro non cercava che un contatto. Calcio di rigore per la Spal che Fioretti trasforma. Il gelo cala sul Bonolis. Il Teramo tenta una reazione disperata con la Padula che manda la palla a sfiorare il palo ma non c'è più tempo. Finisce in parità con tanti rimpianti da parte Biancorossa e con Ascoli che mette su la prima fuga del campionato.